Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori al momento ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in entrambe le direzioni. Si ricorda che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. In A1 stanotte in orario 22.6 chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!